Dottor Santoro, dopo l'esperienza all'estero, un ritorno qui a Sanremo? Importante? Sì, importante. Sono stato all'estero per sbagliati anni, ma sono felice di ritornare. È una realtà importante, delicata alla dirigenza del commissario di Sanremo, una realtà che in parte conosco per averci lavorato dal 2000 al 2006. Spero di poter continuare per il lavoro già fatto e quindi di contribuire alla maggiore sicurezza, alla maggiore tranquillità anche dei cittadini. Parole di grande stima anche dal questore Capocasa nei suoi confronti. Sì, lo ringrazio. Spero di poter in qualche modo ricambiare gli attestati di stima che lui ha fatto, ma sono sicuro che con la collaborazione di tutto il personale del commissariato, che in questi anni, anche con il mio predecessore, ha veramente lavorato in modo duro, efficace. Potremmo continuare su questa strada, seguendo le indicazioni del questore, continuare a svolgere veramente un lavoro efficace per il contrasto della criminalità e per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in quel centro.